Un saluto a tutti. Rieccoci a parlare del problema del marxismo, del solito complotto marxista con quelli di sinistra. Spesso, soprattutto nei siti dei fanatici religiosi, no? Non parlo di complottisti di destra in generale, ma di fanatici religiosi. Sempre i centrocultori, San Giorgio, dicono che Marx era massone, o detto era satanista. Dicevano che Marx era parte della loggia e della loggia a pollo. Noi non abbiamo però le prove di che questa cosa sia vera, ma anche se fosse, vi spiego perché non vuol dire un cavolo. Noi sappiamo di certo che Marx face parte, anche Engels, dell'erge dei giusti, che si ispirava, che nasce dalla massoneria e si ispirava alla carboneria francese. E' una associazione paramassonica. Marx e Engels ne entrarono nel 1847. Ma loro, diciamo che prese i reti di questa associazione, divenne la rega dei comunisti. Il loro moto divenne proletario di tutto il mondo, unitevi. Nel 1848 essa divenne il partito comunista. E ci fu lì la rottura con la massoneria. E vi spiegherò anche bene che non è un'ipotesi campanitaria. Ci sono tutte le fonti citate in descrizione. E non è uno scherzo. Se non mi credete, andatevi a leggere. La seconda lettera marxista, sostanzialmente, il pensiero liberale borghese, con lo sostenuto, propagandato dalla massoneria, era necessario per la nascita del comunismo, per la lotta di classe. Per tutta la storia per Marx era di lotta di classe. Cioè, i borghesi lottarono contro i aristocratici, e adesso i proletari devono lottare contro i borghesi. E quindi anche contro la massoneria. Marx ed Engels, e anche Lenin, ritenevano che i socialismi non marxisti erano spesso della borghesia. E questo anche criticavano Prudon, Bakunin, Mazzini, anche l'Associazione Internazionale dei Lavoratori. Cioè, la cosiddetta prima nazionale. Prima internazionale. In quanto massoni, ho portato le diva a tutti i massonici, o per quanto riguarda l'AIL, cioè la prima internazionale, secondo Marx ed Engels, si erano infiltrati di massoni, e invece lo faccio dire. Marx ed Engels criticavano il settalismo massonico, il segreto iniziatico, e tutte le associazioni segrete, e cito testualmente, Marx, queste associazioni segrete, invece di educare i lavoratori, li assoggettano a leggi autoritarie e mistiche, che ostacolano la loro autonomia, e indirizzano la loro coscienza in una direzione sbagliata. Per Engels, il segreto iniziatico creerebbe un partito nel partito. Peraltro, anche la ritualità massonica è stata criticata, molti marxisti, questo poi lo vedremo meglio dopo, per assomigliare troppo a una religione. Tra l'altro. poi vorrei raccontare una cosa, Marx accusava Prudel e Bakunin di essere massoni, Prudel e Bakunin criticavano Marx perché era ebreo, e di essere evigato di Rothschild. Questo, no, io non so come commentare, si accusava una vicenda, facevano complottismo, erano tutti complottisti, lui non accusava l'altro di essere membro del complotto, ma non so chi ha ragione, sinceramente. Marx, inoltre, afferma che i capitalisti, mentre si comportano da falsi fratelli, tra parenti, proprio vi dico, fratelli è il termine in cui i massoni si chiamano fra di loro, si comportano da falsi fratelli nella loro concorrenza reciproca, costruiscono poi una verbo la massoneria di fronte all'insieme della classe operaia. Cioè, invece di infiltrarsi nello Stato per distruggerlo, si infiltra nei partiti rivoluzionari per farvi fallire. Per questo, infatti, c'erano molti massoni dei partiti socialisti e comunisti, come vi spiegherò in seguito. E poi i partiti, e la seconda e la terza internazionale, faranno di tutto per spiegare i massoni dei partiti socialisti e comunisti, cosa che poi fallirà, purtroppo. Per Marx ed Engels, la massoneria, tutto la massoneria di Bakunin, ammesso che sia esistita, aveva finalità di distruggere il partito operaio. Giudicare le risultate sembrerebbe, se veramente la massoneria si è infiltrata nel partito operaio, effettivamente è fallito proprio il comunismo, è sparito il comunismo nella faccia della terra. Oggi c'è proprio il trionfo del liberalismo e del capitalismo. Oggi. Marx addirittura scrisse un testo che ha fatto un complotto contro l'internazionale. Cioè, Marx non era massone, ma era complottista. Cioè, Massimo era massone pentito, al massimo. Un complotto contro l'internazionale. Cioè, praticamente, come dicevo prima, tutti accusavano gli altri di far parte di un complotto massonico o giudaico che fosse. Ok, per il momento interrompo qua. Nel prossimo video parleremo del rapporto fra il marxismo e la massoneria.